Raccolta porta a porta per altre 3.000 famiglie di Pescara Porta Nuova, niente più cassonetti. Da domani inizia la rimozione dalle strade della zona coinvolta, quella tra Viale Marconi, Viale Pindaro, Tracciato Ferroviario e Lungo Fiume. Chi non ha ancora i kit distribuiti a novembre può ritirarli in via reale nella sede di Ambiente S.P.A. dove siamo stati stamani. Il direttore tecnico Mauro Di Lanzo fa il punto della situazione e anticipa le giornate che verranno con consigli preziosi per i cittadini. Il porta a porta, ricordo, verrà fatto con l'utilizzo di un mastello per quanto riguarda la frazione umida. Un mastello più piccolo sotto la vella per contenere il sacchetto del materiale biodegradabile verrà contenuto e messo nel bidone del conferimento stradale. Inoltre daremo il kit formato da 25 sacchetti di carta perché il sacchetto di carta che contiene solo la carta minuta, mentre per quanto concerne il cartone e il giornale possono essere impilati, messi a fianco al sacchetto di carta, quindi la carta ha una funzione ben contenuta. Altri sacchetti che daremo sono 50 sacchetti per il plastica e imballaggi di metallo e infine daremo un sacchetto per il secco residuo di colore grigio dove vi è un numero identificato che permetterà di conferire la frazione in il secco residuo. Oltre a questo verrà raccolto il vetro attraverso le campane informatizzate che a breve procederemo a inserire in Porta Nuova, in questa zona di Porta Nuova. Quindi un elemento importante. Inoltre permetteremo, ricordiamo i cittadini, della possibilità di utilizzare l'isola informatizzata presente in Via Pepe che permette ai cittadini di poter liberarsi dei propri rifiuti senza rispettare il calendario, quindi 7 volte su 7 nell'arco del 24, quindi diventa una valva di sfogo molto importante. Con Luca Bellante parliamo allora di questo kit che i cittadini possono venire a ritirare. Allora, per la prima fornitura, perché noi abbiamo già fatto una consegna massiva delle attrezzature, per chi non avesse già ritirato il kit può venire lunedì e venerdì la mattina dalle 9 e mezzogiorno e mercoledì, il pomeriggio, dalle 15 e 30 alle 17 e 30. Per quanto riguarda la prima fornitura, quindi il kit completo consiste nel mastello per l'organico che è taggato e quindi è identificativo per l'utenza, il sottolavello e le buste Mater B per la frazione organica e poi abbiamo le buste per la plastica, quindi 50 buste per la plastica in gialle, 50 buste per il secco residuo che hanno un codice identificativo e poi abbiamo 25 sacchi per la carta minuta e infine la tessera, l'eco card che sarebbe la tessera che permette il conferimento sia nelle isole informatizzate che nelle campane del vetro. Le isole informatizzate, ricordiamo che saranno localizzate nell'area del centro storico e del mercato coperto di Via Orazio e sono a disposizione di un numero limitato di utenti.